Ok, sono fratta maggiore, hanno name, Fiorellini, eccoli qua, Regino Calanante, Regino Montondo, Susanna, devo dire che questo è un epibelo, cari d'Italia, devo dirlo, devo dirlo onestamente, veramente, non voglio riccare, è la verità, è la verità, e parte di questa bellezza è data dal pubblico, si chiama no name, ma secondo me da gennaio sarebbe bello che ci fosse anche il brand Smiles, guarda come sta bene lì, magari facciamo tutte le domeniche, cosa dici? Facciamo tutte le domeniche? Poi vera mio figlio...